Sicuramente abbiamo lavorato, questo è fuori dubbio, siamo stati qui, i ragazzi come dicevamo in sede di pre-vigilia, festività, hanno rinunciato anche a dei giorni per poter lavorare sul campo, quindi abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, l'aspetto fisico, tattico, tecnico, delle conoscenze e quindi è chiaro che dopo un mese dove non c'è partita sono curioso anche io di poter vedere come ritroviamo una squadra, ma questo già accade a tutte le formazioni quando c'è una ripresa di un campionato, vediamo le squadre che quando riprendono c'è quella che può riprendere magari un attimino in maniera giusta, altra squadra che magari il fatto di essere stata lontano dai campi un po' di tempo, un pizzico di ripresa del ritmo, del passo, delle conoscenze, dell'attenzione, quindi io mi auguro che la squadra sotto questo aspetto abbiamo richiamato tutte le componenti che sono quelle della concentrazione, dell'organizzazione di gioco nelle due fasi, ci abbiamo lavorato sopra, ora sono curioso anch'io di poter vedere i ragazzi, quello che hanno recepito e soprattutto l'approccio, la partecipazione dentro la partita. Tanto tutte le partite in Serie B sono difficili se ne la affronti con la maniera giusta, se ne vai in campo pensando che sia facile, che il Parma possa andare in campo a fare tre gol a tutti, già sbagli, è un atteggiamento sbagliato, ma non il Parma, noi, tutte le squadre in Serie B devono rispettare gli avversari perché hanno un lavoro dietro, hanno organizzazione, hanno un atteggiamento, hanno mentalità, hanno delle qualità dentro la squadra importanti, giocatori che stanno attraversando un ottimo periodo di forma, un allenatore che lavora lì, che sta facendo un ottimo lavoro da un anno e mezzo, quindi le conoscenze sono ampie, lunghe, e ha potuto inserire in tre sedi di mercato giocatori che ovviamente facevano per le caratteristiche del proprio gioco, e quindi queste sono tutte situazioni che poi non hai e te le sei portate avanti e la squadra le sta dimostrando sul campo, giocatori come Ciano, come Zerbine, come La Punta, Ciarpentier, Novakovic, giocatori di grande qualità, abilità, che hanno caratteristiche che possono impenserire Garritano stesso, qualsiasi difesa, e quindi dovremo essere molto attenti, concentrati nelle due fasi, ma essere anche noi bravi per andare a costruire, per andare a giocare, a determinare le nostre situazioni in fase offensiva.